Oggi provo una delle migliori pizzerie al mondo Le Grotticelle a Caggiano in provincia di Salerno 12esima migliore pizzeria in Italia 26esima migliore pizzeria al mondo Il titolare è Angelo Rumolo e questa è una country house della sua famiglia quindi anche ristorante, hotel, pizzeria Sticcio Caggianese, anche una deco fatto con 7 tipi diversi di caciocavallo pane, uova e carne macinata Bello unto, saporito parte dalla margherita Cormicione, molto bello, una bella struttura Pasta di una nuvola, pomodoro e mozzarella Saporitissimi Confini con brì di bufala Salsiccia fresca e salvia selvatica Molto buona anche questa Le Grotticelle con fior di latte Cardoncelli, guanciale Le Corino dolce e tartufo fresco Arriva subito il sapore di Cardoncelli Poi ti arrivo un po' tutto il resto Se si mischia bene, ti lascia un bel sapore in bocca Una bella, bella pizzeria Tutti i riconoscimenti di Premi Gay sono più che meritati Sono contento di essere andato a provarla Sicuramente ci tornerò Bella